Ehi, state tutti fermi, altrimenti finiamo in acqua! Che cosa dovrei aspettare? Non ce la faccio! Se è così, ci troveranno presto, tranquilli, e vi riporteranno a casa, e a noi ci riporteranno indietro! Siamo in troppi, ve l'ho già detto, cercate di stare fermi e di dormire! No, no, no! Non parlano più! E ora? E ora stai! Siete! Qui! Per chi? Sono nata sul mare, e nessuna terra può accorgere! Lei! Lei chi? Lei! Si tagliava! Chi? Era mia amica! E non capivo! Una sorella, quasi! Si tagliava! Perché? Se le chiedevi perché, per non sentire male, diceva, e si metteva a rivedersi! Non capivo! Doveva fare male, invece! Meglio così, diceva! Meglio così! 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 Grazie a tutti.